Devo andare in bagno e mi scappa la cazza, mi fa, sempre molto fine, la Franci. Io rimango lì, mi addormento con la top sulle gambe, quando sento un tonfo, lei urla, io corro in bagno, cacca dappertutto, ti giuro, sui muri, schizzi sul pavimento, una cosa indecifrabile, faccio e la madonna, dico, hai scoppiato i tubi. Senti, ma secondo te ce la facciamo però a finire per le 18? No, guarda, inizio da cambiare il sanitario, se me lo scriveva nella miglia, me lo portava No, no, non esiste, quel ciasso lì non si tocca mica, è degli ospiti, sai che lì ci ha cagato la iva? La zanicchi, quella dove la metti fa la cacca, l'hai visto il video su YouTube? Veramente, vabbè, senta, io qui li ho liberato gli scarichi, faccio uno scarico di prova per vedere se funziona. Lo sapevo, sei un grande, ci facciamo una foto? No, eh? Alza la chiave inglese? Yo, paura, hashtag working class. Io avrei finito veramente, le faccio la ricevuta o le serve la fattura? Quale fattura, scusa? Oddio ci siamo capiti male, no pensavo di essere stato chiaro, insomma, te lo dico onestamente, per questo progetto non c'è budget, però mi è venuta un'idea, ti offro una grande occasione di visibilità, appena tu vai via mi faccio una foto mentre sto cagando sulla tazza che tu hai appena sistemato e poi te la metto su Facebook, più Twitter, Instagram e Pinterest. E poi ti taggo.